Il principe William diventerà presto re, l'indiscrezione, disgustoso verità Secondo i rumors d'oltre Manica, pare che il principe William possa presto diventare re Il fratello maggiore di Harry starebbe infatti frequentando alcuni incontri segreti volti a prepararlo a ricevere l'eredità di suo padre Carlo Il marito di Kate sta dunque partecipando ad alcuni meeting formativi Una volta che il genitore sarà salito al trono, infatti, il primo genito di Lady Diana, attualmente duca di Cambridge Prenderà il titolo di duca di Cornovaglia oltre ad una cospicua eredità che ammonta ad oltre un miliardo di sterline Sulla linea di successione dei reali d'Inghilterra si è detto e scritto tantissimo negli ultimi anni Recentemente, però, pare proprio che il principe William si stia preparando ai futuri incarichi da regnante Il che lascerebbe presagire un possibile sorpasso sul padre, Carlo, come rivela un articolo del Daily Star Il principe nel corso del 2018 avrebbe preso parte a ben 220 incarichi ufficiali per conto della corona Nel 2017, invece, le sue apparizioni pubbliche erano state una cinquantina in meno Una gavetta di impegni che normalmente spetta all'erede al trono, spesso uno dei membri più impegnati della famiglia reale Un altro motivo per cui i tabloid londinesi puntano molto su una futura prossima incoronazione di William è anche un graduale allontanamento della regina Elisabetta dalla scena pubblica Lo scorso anno infatti le apparizioni della regina, 92 anni, sono state inferiori a quelle del 2017 Nonostante ciò Elisabetta non si è certo risparmiata, le sue uscite in pubblico sarebbero ben 283 Nel 2016, invece, erano state 336, a riprova della formidabile tempra della sovrana inglese Kate Middleton è incinta del quarto figlio? Il dettaglio schiacciante Secondo recentissimi rumors, provenienti da Palazzo Reale d'Inghilterra La duchessa di Cambridge, Kate Middleton potrebbe essere incinta del quarto figlio Pare si stato notato un dettaglio schiacciante, che potrebbe essere la prova di un altro royal baby in arrivo A dar credito a questa voce indiscreta, sono i tabloid inglesi, che non hanno potuto fare a meno di notare qualcosa di sospetto Soltanto otto mesi fa, Caterine Middleton, ha dato alla luce il suo ultimo genito il principino Luis I duchi di Cambridge, Kate Middleton e il principe William, già genitori di George, Charlotte e Luis, potrebbero oggi essere in attesa del quarto genito A far circolare la voce, è il tabloid inglese Tesson Secondo il noto tabloid, ma non solo, a confermare questa indiscrezione, ci sarebbero più dettagli e indizi Kate Middleton, il biografo di corte, William non voleva sposarla, Carlo lo convinse Kate Middleton e il retroscena sul matrimonio con il principe William, lui non voleva sposarla, è stato Carlo a insistere A lanciare l'indiscrezione shock sarebbe stato il biografo di corte, Christopher Anderson Pare infatti, che il primo genito di Diana non se la sentisse di fare il grande passo e che sia stato il padre a spingerlo Come riporta il giornale, nel 2007 William avrebbe confessato al padre Carlo di non essere pronto a sposarsi con Kate Middleton Carlo a quel punto lo avrebbe messo davanti a una scelta L'eterno erede al trono infatti, essendo molto affezionato alla futura Nora, avrebbe detto al figlio che il suo comportamento non era corretto E che se non si sentiva pronto, avrebbe dovuto lasciarla E infatti, proprio in quegli anni, William lasciò Kate Salvo poi ripensarci e convolare a giuste nozze Oggi rappresentano davvero una coppia modello e sono tra i più amati dai sudditi di sua maestà Maretta superata? Staremo a vedere ti odio così tanto Perché fai piangere la mamma, papà? La rabbia di William contro il principe Carlo Si definisce Royal Watt, Katia Nicolè, infatti, sulla famiglia reale britannica Nessa Abizzeffe, tanto da diventare la biografa reale È stata proprio lei negli ultimi giorni a diffondere alcune frasi che il principe William da piccolo avrebbe rivolto a papà Carlo Erano gli anni difficili del matrimonio di Diana e Carlo Quelli in cui i tradimenti si mischiavano al tentativo di salvare la famiglia, o, perlomeno, di tutelare i due piccoli di casa Windsor Aveva 14 anni William quando rivolgendosi al padre gli chiedeva di smetterla di far soffrire la principessa Ti odio, papà ti odio così tanto Perché fai sempre piangere mamma Così l'erede al trono del Regno Unito urlava tutta la sua sofferenza al padre, che riteneva responsabile per quella situazione Come ha spiegato la biografa reale, tra Diana e il primo genito c'era un rapporto strettissimo La principessa dipendeva da William, con cui si confidava regolarmente Era William che le passava i fazzoletti attraverso la porta della camera da letto mentre lei si inghiozzava dall'altra parte Per un ragazzo era un fardello davvero pesante, ha riferito Katie e Nicole Il figlio maggiore di Diana e Carlo, classe 1982, era agli albori della sua adolescenza quando i genitori hanno deciso di separarsi E' stato lui a subire di più le tensioni della coppia reale Anche perché Harry, di due anni più piccolo del fratello, sensibile e fragile, sceglieva di allontanarsi piuttosto che assistere ai litigi furibondi dei genitori William, invece, era sempre pronto a intervenire in difesa della madre Per questo il rapporto con il padre Carlo è peggiorato dopo la morte di Diana I due fratelli già prima del tragico incidente di Parigi in cui la principessa rimase uccisa accusavano il padre di essere assente A peggiorare la situazione e la presenza di un'altra donna, Camilla, mai accettata fino in fondo da William e Harry Il principe William ignora Meghan Markle davanti a tutti Avrebbero passeggiato insieme il giorno di Natale per riconciliarsi O forse, più probabilmente, permettere a tacere le voci di una bufera continua tra i giovani della famiglia Windsor Ma secondo diversi tabloid britannici, la camminata riparatrice dei Fab Four Ovvero William, Kate Middleton, Harry e Meghan Markle, potrebbe essere stata soltanto un'operazione di facciata E nemmeno troppo riuscita Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i rapporti tra i membri della Royal Family non sarebbero ancora distesi In particolare tra il principe William e la cognata Alcuni, infatti, avrebbero colto un clima di freddezza tra i due Pare che il duca di Cambridge abbia letteralmente ignorato la moglie del fratello, che si era rivolta a lui chiedendogli qualcosa Seguendo la sequenza di alcuni frame di un video che ha fatto il giro del mondo, in rete, William avrebbe, forse, finto di non sentire Preferendo sistemarsi la sciarpa piuttosto che parlare con l'ex attrice americana Grazie per la visione